Oh, ma dicono che non sei un geniale nei commenti. Perché tu vuole essere geniale? Ma io no, tu? Ma va, troppa fatica. Su Rai 1, Coppa Italia, quartieri finale, Inter Roma. Anche se io senza calcio vivo benissimo. Senza calcio. Su Rai 2, Voyager. Che i confini della conoscenza li oltrepassa, fa il giro e poi diventa fantascienza. Su Rai 3, l'ennesimo caso per due di un caso per due. Su canale 5, Amici di Maria di Filizio. Dopo l'annuncio di Maria Sanremo. Amen. Probabilmente la finale di Amici verrà trasmessa a retunificate. Ma Bononis da solo non ce la fa più. Su Italia 1, CSI New York e CSI Miami. Me l'ho dato, Razio. 3 e 4 ha deciso di dedicarsi a Terence Hill e Bud Spencer. Io sto con l'Ippopotami. Un titolo che potrebbe essere un'idea per il prossimo trash reality show. Sulla 7, Rob Roy. Un film in costume per divili rimillimissimo. Su MTV, The Fabulous Life of Million Dollar Babes. Come me. Su All Music, cartoni animati e indovinato un po'? DJ Cam Italia, il consiglio del giorno? Andate al cinema. A domani. E se i palinsesti cambiano, non date la colpa a me, io sono registrata.